La Fortuna di Sottotitoli 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 Chiara! Andiamo! Lo so che ti sei spaventata La situazione è sotto controllo Mamma! Perché nessuno mi dice niente? Chi è papà? La procura distrettuale Lo aveva accusato di associazione a delinquere Per traffico di stupefacenti Ma che sta succedendo? Siamo nei guai Dov'è mio papà? Ma tu non puoi capire Chiara Che succederà poi? Ma tu non sai. E' meglio che sta succedendo Grazie a tutti.